presentati sono Michele ho 28 anni e canto e ogni tanto suono la chitarra e di continual drift francesco gazzi 26 anni batterista dei continual drift io sono nicola chitarrista manuel 25 anni bassista dei continual drift hai un soprannome mi chiamano michael bridges che poi è diventato bridges che poi è diventato bridge e alla fine mickey è meglio per tutti nick bazzo bello figo cappuccino il tuo artista o band preferita di sempre i beatles però mi piace anche molto brian adams tanta bene dico tom wade difficilissima diciamo stevie wonder the who facciamo il gioco della torre dopo ci lancio michele dalla torre beatles o stones beatles tutta la vita beatles beatles fender o gibson un giorno ti dico fender e il giorno dopo ti dico gibson non si può rispondere preferisco la figa io tra i quattro quello che suonerebbe più ballad di tutte però ogni tanto ci sta la cazzutaggia cazzuto cazzuto penso cazzuto subito e sempre londra los angeles los angeles ti dico londra ma perché sono radical chic schifoso a me mi chiedi londra los angeles dai su los angeles americano tutta la vita luke o vader vader che becca solo le spade e se vi dicessi che non ho mai visto il film studio o live live sicuramente live studio studio cosa vuol dire continua il drift vuol dire vagare alla deriva per sempre non lo so non ne ho idea quello che ha detto michele la deriva era era bella è praticamente quando fai le sgommate con la macchina chi è il più bello cappuccino manuel bazzo ciciccino simpatico bazzo e io dai questa io antipatico cappuccino cappuccino bazzo michele quando non si taglia i peli goloso bazzo bazzo è umano sicuramente disordinato disordinato michele datemi contro avanti bravo a suonare nicola americano bazzo preciso bazzo cappuccino fa schifo nicola quello bello studioso bazzo nicola penso nicola fancazzista bazzo quello che deve trovarsi un lavoro michele se mi ci metto io sono un bel fancazzista arrapato bazzo dai lo sappiamo ho vinto romantico michelino non io di sicuro ciciccino io un buon proposito per quest'anno beh vorrei direi cercare di vedere di musica direi guadagnare un milione di dollari facci una promessa che manterrai mi prometto che se dico che esce l'album dei continual drift questa volta è vero prometto che io uscirò di casa e poi anche l'album credo spero per uscire l'album dei continual drift quest'anno domanda di riserva fai un saluto ciao a tutti e seguiteci ciao ciao secondo me non verrà ciao 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 ciao